musica wey bella a tutti ragazzi benvenuti a questo video extra secondo video del giorno dedicato a fortnite perché ragazzi c'è qualcosa di molto strano che è appena successo in lobby mi voglio spostare subito con voi nella schermata principale di caricamento nella schermata principale della lobby e non tutti ma alcuni ragazzi se vanno nel negozio oggetti se vanno nel negozio oggetti what the f... ce l'ha... hai capito? hanno messo la Recon Expert oh mio dio nooo nooo are you serious? what? ok allora signori è un bug è un bug è un bug non si può prendere perché lo shop è vagato ragazzi ma sappiamo finalmente con certezza che la Recon Expert tornerà nel negozio insieme alla Shia Sinta ragazzi ma what? vogliamo riprovare un secondo scusate vogliamo riprovare un secondo SALAFAAAA sparacatiri la scarela sbagnanca sindy spuringazan e la va a prendere signori Brog esperto ricognizione esperto ricognitore esperto cognato insomma ragazzi date un'occhiata anche a voi immediatamente se potete per caso prendere la Recon Expert che arriva nello shop me la equipa già oppure me la equipa guardati qua che meraviglia che meraviglia ragazzi fatemi vedere fatemi vedere sborong e insomma ragazzi tanta roba vi ringrazio per aver guardato questo video super fast e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch con la Recon Expert ciao ciao